Parliamo di editoria grazie anche a una strategia di comunicazione che coinvolge internet, cresce l'interesse attorno al romanzo di Aldo Penna, Il silenzio imperfetto, che vede una prefazione di Antonio Ingroio, un libro dove la fantasia e la realtà si interacciano per dare vita Vicende tutte ad approfondire, sentiamo Il protagonista è un giornalista di Nera che incrocia due morti accidentali, occasionali che però hanno già qualche interrogativo e indagando, investigando, comunque scrivendo su queste due morti intercetta o incrocia la vita di un protagonista della politica cittadina che poi diverrà sindaco e da lì la storia parte su due correnti parallele, una la vita privata di Flores, le sue traversie anche sentimentali, le sue crisi da quarantenne single e le vicende della politica cittadina che invece si sposano con questa nuova corrente della politica che si dichiara sempre antimafiosa quando poi in alcuni casi e nei comportamenti concreti non lo è. Che Palermo è quella che fa da sfondo? Quanto c'è di fatti, personaggi reali? Ai personaggi del libro non possono essere identificati dei personaggi reali ma negli ultimi 30 anni si sono agitati così tanti personalità nella politica della città che inevitabilmente qualche loro aspetto è stato trasfuso nel libro ma non di un singolo.